Grazie a tutti i rossicini! Vabbè, ora li digerisci. È sempre uguale? Tipo tutto. Alla prossima. Grazie 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 Siamo malati no ma sai che averci tempo vabbè ma tanto chi cazzo si corre no è vero però sai sto in moto cazzo voglio andare in moto c'è proprio da fare come i ragazzini non ce vado mai quando ce vado no la cosa bella è che tu quando vuoi prendi e vai io non ho fogo non è tanto grazie a tutti grazie a tutti